Ricordarci che i diversi... I diversi e io sono un diverso, sono una... Della categoria... Sì, lascia parlare solo. Un po' per uno, scusami. Ma vabbè, parla solo lui. I diversi... Sono coloro per i quali noi, soprattutto lui, siamo diversi. Te lo ricordi questo? E questa è bella. Posso farti una domanda almeno, una sola. Ma tu operi come canti? Questa è bella, scusa, eh. Operi, la se la rifaccio perché forse non l'ha capita bene. Operi come canti? Perché quella prima la tagliamo, rimane solo questo pezzo poi. Trenta secondi. Venti. Questa un attimo. No, no, sto benissimo io, professore. No, sto benissimo, lo giuro. Era solo una battuta. Era una battuta. Era una battuta. No, professore, no. Ti apri in diretta. No, stiamo a dire che sarà Manila. No. Chiamate D'Amato. Ecco, io volevo sapere. Ma lo vinci? No, scusa, no, è stato Giannaci, scusa. Tanto ormai, sai, l'inviato... Enzo. Enzo è tremendo, sai, è fatto così. Anche con te lo fa.